Buongiorno cari amici, oggi è 29 giugno, vediamo che cosa è successo sui giornali. Io vi dico la verità, questa mattina mi sono svegliato e ho incontrato l'invasore. Ho incontrato l'invasore e tecnicamente sono entrati tutti sul mio campo, sono entrati tutti sul campo dell'immigrazione che bisogna fare qualche cosa. Oggi io mi sono svegliato e ho letto il giornale e ho detto porca puttana, ma dove ho vissuto negli ultimi tre anni? Negli ultimi tre anni io ho vissuto in una televisione in cui dovevamo dire sottovoce, ma lo dicevamo urlando, che l'immigrazione era un problema. Arrivavano degli ospiti e dicevano dobbiamo bloccare i porti, dobbiamo far sì che non arrivino in Italia. E quando quegli ospiti venivano in trasmissione venivo accusato io, ma soprattutto gli ospiti, di essere fascisti, razzisti, insensibili, non capire dove andavano le cose, non era un'emergenza, bisognava fare l'accoglienza, non dovevamo preoccuparcene, ci hanno spiegato che Macron aveva capito come funzionava l'Europa e l'europeismo e tutte queste minchiate qua. Io mi sono svegliato questa mattina, mi sono svegliato questa mattina e ho capito che l'invasore è già invaso, ma l'invasore non sono gli immigrati, sono quei deficienti che oggi mi spiegano a me che è necessario bloccare i porti. Cioè oggi noi scopriamo che sono arrivati 12.000 migranti negli ultimi giorni e io scopro che i ministri e i politici italiani hanno chiesto che governano oggi gli stessi, gli stessi che criticavano Salvini, Giordano, chiunque, Giulie, chiunque criticasse questa polemica sull'accoglienza, oggi dicono che i porti possono essere bloccati, possono essere approdare nei porti italiani le ONG battenti bandiera straniera. Quando un ragazzo che si chiama Luca Donadel fa un video che voi avrete visto, ne avrete visti tantissimi, in cui fa vedere che le ONG li vanno a prendere in Libia, questo Luca Donadel è stato accusato di tutto, questo ragazzo di 23 anni, fake news, fascismo, quello che cacchio volete voi, perché diceva una cosa di cui oggi si accorgono tutti. Va bene? Va bene? Io la trovo. Quando io mi leggo oggi sul Corriere della Sera, che è il fondo del Corriere della Sera, è fermezza inevitabile. Quando io mi leggo oggi sul Repubblica, come si chiama, Calabresi, che mi scrive come si salva la solidarietà, come si salva la solidarietà, cioè sapete come si salva la solidarietà? Secondo noi, non facendo arrivare nei porti italiani le ONG con dentro i migranti, ma fino a qualche giorno fa, sai che mi dicevano questi ipocriti di merda a me, ma non solo a me, dicevano ma se non li fate entrare nei porti italiani, muoiono, muoiono, state diventando complici di una strage, quindi, quindi sono degli stragisti politici che oggi vogliono fare quello che loro stessi non volevano fare mesi fa. Nel frattempo i politici italiani, è bella l'infografica oggi sul Corriere della Sera, si sono accorti che dall'anno scorso, rispetto all'anno scorso, siamo passati da 73 mila nuovi migranti, cioè clandestini, finalmente possiamo chiamarli, forse fra un po' come si devono chiamare, dall'uno, dal primo gennaio del 2017, dal primo gennaio del 2017 ad oggi 73 mila persone sono venute in Italia, 73 mila maschi, alti, forti, robusti, che vengono qua non per scappare le guerre, ma per cercare un loro futuro migliore, cosa legittima, ma non possiamo assicurare un futuro migliore a centinaia di milioni di persone, rispetto ai 64 mila dell'anno scorso, 73 mila, quest'anno 64 mila l'anno scorso, erano tanti anche l'anno scorso, 64 mila, nel frattempo a settembre del 2015 sapete che cosa decidiamo? Tutta Europa che parte dei migranti, cioè 160 mila migranti devono essere ridistribuiti in Europa, sapete quanti ne ridistribuiscono dall'Italia? 7 mila, ci hanno preso per il culo! Beh, e noi siamo qua che oggi scopriamo questa roba, abbiamo detto che Macron è il leader, è il nostro faro, tutti i macronisti, sapete che ha fatto ieri Macron? 200, c'è scritto oggi su tutti i giornali, Corriere, Repubblica, ma è una piccola cronaca, io vorrei un commentino, il loro mito Macron ha preso 200 clandestini che passavano dall'Italia alla Francia, ce li ha riportati in Italia, via! Via Macron! Il sinistro centrista Rochil Macron, ha preso i 200 che passavano in Francia e ha detto sapete che c'è di nuovo? Ve li rispediamo indietro, 200, 200 ce li hanno rispediti indietro, sono cazzi vostri! Bene, noi siamo qua che ci siamo accorti questa mattina che l'invasore è passato, poi c'è un'altra storia, mi dovete perdonare, sono due giorni che non faccio questa zuppa, sono, come possiamo dire, sono un po' in astinenza, ma la seconda storia è quella di Woodcock, oggi lo leggete bene, voglio dire, straordinariamente la cronaca mi sembra una delle migliori fatta da Bianconi oggi sul Corriere della Sera, cioè esce il fatto che un generale avrebbe violato il segreto grave, se fosse vero, il generale dei Carabinieri avrebbe detto a qualcuno che è intercettato, ci sono delle microspie, questa cosa la scrive il fatto il 22, il 21, questo generale del 7 viene indagato, viene indagato, interrogato la notte del 20 dicembre, il 21 viene indagato, il 22 esce il fatto, ma la cosa grave non è che il fatto esce il 22, questa cosa la sapevano in poche persone, che il 21 il giornalista del fatto chiama la Sciarelli, la signora Sciarelli, quella a cui io gli stavo sui coglioni perché era un po' di centrodestra e diceva il Rai non riesco a capire perché abbiamo preso porro, io non riesco a capire perché noi continuiamo a pagare la Sciarelli, la fidanzata di Woodcock con i nostri soldi, va bene, io questo non capisco, non perché io fossi il Rai dove mi ha fatto fuori la Sciarelli e i suoi simili, ma io chiedo perché la Sciarelli, il Rai oggi pagato da noi, ma comunque la signora Sciarelli viene telefonata da Lillo, dice Bianconi, telefonate, dicono i PM di Roma, telefonate inusuali perché negli ultimi mesi non si erano mai sentiti, quindi Lillo alza il telefono e chiama la Sciarelli più volte, il 21, compagna di Woodcock, il giorno dopo il fatto esce con le indagini e l'ipotesi dell'indagine è che la Sciarelli, fidanzata di Woodcock, abbia detto a Lillo il giorno prima, tant'è che esce il giorno dopo, che c'era questa roba qua. Io non so se sia vero, non so se la Sciarelli sapesse, non lo posso sapere, sono anche dell'idea che è ovvio che un giornalista chiama, l'ho detto l'altro giorno dalla Gruber, un giornalista cerca le notizie, quindi Lillo poteva chiamare anche il barista sotto casa sua per sapere se era vera l'informazione gustosissima che lui aveva, ha fatto bene, ha fatto bene a fare questa cosa a Lillo, ma a me questo intreccio di questo magistrato che sta con la giornalista televisiva, che indaga i giornalisti televisivi, che prova a mettere in galera chiunque, le cui inchieste vanno a finire. Ecco, questo intreccio è il fatto che il fatto lo consideri un mito delle indagini italiane, il signor Woodcock mi dà il senso di che cosa sia il fatto, cioè mi dà il senso non di Lillo che faccio mestiere, che faccio mestiere benissimo perché cerca le notizie, ma che questa inchiesta della Consip in cui trovo Woodcock indacato, tutto spiattellato sul fatto, mi rendo conto che c'è un capitano dei Carabinieri che manipola il nome di Renzi all'interno di un'informativa. Ragazzi questa è una cosa di una gravità, pensate se manipolasse il vostro nome e se voi foste non Renzi che ha tutti gli strumenti per ottenere giustizia, ma uno sfigato qualsiasi, un magistrato, un PM che ha alle sue dipendenze un capitano che manipola e cambia i nomi all'interno di un'informativa. È di una gravità sensazionale, sensazionale. Vabbè, di questo sapete come finisce, molto divertente nella sua, diciamo spero, comicità il fatto che Sallusti ieri ha fatto un pezzo molto duro contro Massimo Fini che ha fatto un ritratto invece a Acqua e Rose proprio sul fatto di Woodcock e oggi Fini dice come ti permette di dire che ho venduto la mia testa? Certo Fini non ha mai venduto la sua testa perché si può effettivamente definire un giornalista indipendente, ma Fini dice io non querelo perché non ho mai querelato ma una cosa te la devo dire io ti sfido al duello con la pistola. Insomma tra lo scherzo e la realtà questa cosa è interessante, è fantastico, oggi una piccolo boxino su Maglio Di Stefano che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissioni esteri, dovete ritrovarlo in cui a un certo punto parla del Venuezzela in cui non ne parliamo mai di questo Venezuela ma lì c'è un dittatore comunista di cui non ci occupiamo tanto solo perché è un comunista. Se fosse stato un dittatore la Pinochet sarebbe stato sulle prime pagine dei giornali quello che sta facendo carne di porco a Caracas che è uno dei posti in cui l'immigrazione italiana è così forte e in cui abbiamo rapporti così forti. Ma comunque Maglio Di Stefano ve lo segnalo, l'intervista in cui questo genio della politica esteri italiana ci aveva spiegato perché Maduro è un leader da tenere sotto occhio, non sotto controllo, sotto occhio. L'agenzia del farmaco oggi lo dice il Sole 24 ore, rischiamo di perderla per Bratislava. Macron ci rimanda gli immigrati, nessuno accoglie i nostri immigrati secondo l'accordo del 2015, l'agenzia del farmaco bellissimo il pezzo della Cerretelli che racconta tutte le agenzie europee dove sono va a finire in Slovacchia e noi siamo qua ancora che facciamo gli europeisti delle mie scatole, gli europeisti per controllare l'austerity e i nostri conti e farci fottere spesso come avviene nelle risoluzioni delle banche. Divertente, stupenda, anzi trovo due ultime cose, due o tre ultime cose. Fazio, ieri presento noi per il senso della Rai, dice nel paese c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, Fazio, perché lo insultano sul fatto, anche insulti secondo me sgradevoli, ma lo insultano perché lui si è preso 2 milioni e 8 di stipendio dopo aver piagnucolato su Repubblica che c'era un vulnus insuperabile in Rai per l'intervento della politica e tu dici questa stronzata su Repubblica, poi dopo ti fai pagare il doppio, poi ti fai fare la società che gestisce la cosa, passi da Rai 1 e dici nel paese c'è qualcosa che non va, ma cos'è che non va? Non va la disoccupazione, non va il PIL, non va la burocrazia, non vanno la tasse per i piccoli imprenditori, non il cacchio di stipendio di Fazio e che si è preso qualche insulto da Gasparri. 18 anni, sempre senza auto, meno 8%, bello il pezzo per alleggerire il Corriere della Sera, i giovani non vogliono più le auto ma vogliono gli smartphone, non che le cose costino uguale, ma questa è la sostanza, è incredibile a proposito dei paesi che non va a Fazio, il fatto che Natuzzi, che comunque perde soldi la sua azienda da un po' di anni, ma cerca di resistere, una delle più grandi aziende del mobile italiano, ha dovuto spostare 170 dipendenti da un'azienda all'altra, ovviamente con condizioni contattuali che non si sono state altrettanto gradevoli, di questi 170, di questi 170 una parte non vuole, il giudice li reintegra nell'azienda e gli dice una cosa molto semplice, se reintegrate 170 persone in questa azienda dopo che le avevo spostate in un'altra, io dovrò licenziarle, secondo le procedure degli licenziamenti collettivi altri 170, questa è l'Italia in cui un magistrato dice a un'azienda non puoi spostare 170 persone che hanno ricorso contro il suo trasferimento. Sono contento io che queste persone vengono trasferite? No, ma se noi pensiamo che gli imprenditori non possono fare come cacchio gli pare nella gestione del loro lavoro e delle loro imprese perché il pregiudizio è che ci vogliono sempre fottere, questo paese continuerà a crescere sempre di meno. A proposito di crescita, sto per finire, la Confindustria diceva che dopo il referendum sarebbero arrivate le cavallette, invece il PIL pare sia risalito all'1,3% secondo la Confindustria. Ultima cosa straordinaria, oggi sul fatto, Silvia Truzzi se la prende con farinetti perché una trasmissione televisiva dove ero presente anch'io, su Rai 3, Farinetti chiama una ricercatrice che è evidentemente laureata quindi dottoressa, signorina, questo è il segno della sopraffazione, dell'insulto, della cattiveria dei Renziani, chiamare una persona signorina e non dottoressa, sembra un pezzo di campanile, signorina e non dottoressa. Nel frattempo la signorina dottoressa, ricercatrice di Shenspo, aveva detto a Farinetti che rubava, che frugava nelle tasche delle borse dei suoi dipendenti, che licenziava illegittimamente, che pagava poco, che sfruttava la gente, lei poteva dire tutto questo, tutto questo, ma lui non poteva dire alla signorina che era una signorina, la doveva chiamare dottoressa e in questo paese se chiami signorina diventa un insulto. Ciao!